Ehi la ciurma, io sono Mezzetese e benvenuti su questo video di Balan City Altro gioco che mi hanno mandato e... Ultimamente mi stanno mandando tanto di quella roba che... Niente, ci do un'occhiata così, giusto per onestà, lo faccio vedere ma... Si torniamo al menu, missioni... Ok, primi passi... Ciao Sup, ok, segretario of urban planning... Sento per farti vedere come funziona... Se il tuo primo posto da sindaco... Seguimi... Deve stare in equilibrio la città... Se costruisci troppo da una parte tutto collasserà... Fai dei design simmetrici... Usa i bottoni in cima per creare degli edifici... Puoi scegliere quali... Ok... Ah no, ok, creiamo lo star building... Ok, abbiamo anche un limite di altezza... Fino a 100 metri... Quando hai una popolazione 250 puoi fare un'altra... A 500, 750, 1000... Ok... E l'altezza continuerà ad aumentare... Eeeh... Ah, l'obiettivo è costruire la città... Più alta del mondo... Si, se costruiamo le residenze allora... Ne vuole quattro... Ok... Ah... Non hanno energy... Ok... E se hai detto qua non cade... No... Ah, ok... Gli uffici hanno bisogno di energia... Si, ok... Ah... Per 15 uffici e residenze... Ok... Piantiamo degli alberi... Ok... Va bene... Una terrazza... E l'ho fatto... E l'ho fatto... Ok... Ok... Abbiamo bisogno di una stazione... Ok... 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 Completato... Yes... Bene... Ok... Mega missione... Ok... Morisci il perfetto dei big mega block Rispettere per guardare 8 Non è 10 Ok Mettiamo degli alberi allora Yeee Ora è a 10 quindi si è unito Ok Possono ottenere 50 quindi ne guadagni 10 Ok Quelli sono degli uffici Quindi se io facessi così E così Però non si convertono mica Eeeh Ho bisogno forse di altre case Ah si si è unito adesso Forse perché adesso hanno Tutto a posto E questi però non vogliono stare di sicuro vicino all'affare Dovrei mettere degli altri alberi credo Non si uniscono ugualmente Quattordici ma non si uniscono Boh Provo devo venire con i due Magari non sono abbastanza Ah ok Vedi che andava Eeeh Facciamo degli altri uffici Allora qua Si uniscono Yes Cosa altro devo fare Ah un commerciale Oddio qual è il commerciale Office Commercial Aprendo fare 3d appartamenti Probabilmente No 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 volevo quello Non hanno ancora abbastanza gente Che ci abita Devo mettere Facciamo una terrazza Con degli alberi Yes Ah quello commerciale in realtà non era commerciale Era quello del lavoro Building inspector Unlocked Ok Disaster coping Oddio cosa è sta roba Yes You're lucky to have been Ah un terremoto Oddio Ok Ok togliamo sti incendi Ah c'è uno che protesta Arrastiamolo Ok Oddio Cos'è? Ma come è fallito? Ma mi è caduta la meteora Vai che casca tutto Yeah No dai Vabbè è simpatico come gioco I scenari invece come New York, Berlino, Buenos Aires Nightmare, Seattle, World Tour Ah sono tutti dei livelli particolari Ah ok Beh dai Eccari è strutturato bene alla fin fine Non è la roba più favolosa del mondo Però è ben fatto Lost Levels Yeah Yeah Detto questo Io vi invito a lasciare un mi piace Un commento qua sotto Iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto Ciao a tutti E buona giornata Sì Grazie a tutti Sì